Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Alla Global Chess League si è giocato l'ottavo turno e dalla fine del video guarderemo insieme la classifica. Nei giorni scorsi abbiamo visto insieme partite di una complessità eccezionale, quella che ho scelto per voi oggi è invece un po' diversa, perché vedremo svilupparsi delle idee di attacco ed un sacrificio tra virgolette semplici. E mi fa piacere guardarle insieme queste cose, perché proprio queste idee più semplici possiamo sicuramente riportarle nelle nostre partite. Il match di oggi è quello tra l'istrionico Richard Rapport, che vi ricordo è stato il secondo di Ding nell'ultima vittoria mondiale contro Nepomnici, e con i pezzi neri il giovanissimo talento indiano Gukesh. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Elvis e Jack, due nuovi abbonati alle mie video edizioni, che ormai, lo sapete, sono in una playlist dedicata qui su YouTube, alla quale potete accedere con solo di 2,99€ al mese. Fatemi anche poi ringraziare tutti gli iscritti, anche tutti i nuovi iscritti, e quelli che si stanno per iscrivere, non dimenticate di suonare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti, e quindi guardare insieme le migliori partite. Adesso like preventivo al video e partiamo subito, perché Richard Rapport di Bianco apre la partita con E4, e allora il giovane indiano risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4, siamo nella partita italiana. Alfiere in C5, linea principale, C3 si va nel gioco piano, cavallo in F6 attacca il pedone, e il bianco lo protegge con D3. Anche il nero protegge D6 con il suo pedone, libera quindi il cavallo da qualsiasi compito di protezione, arrocco corto per il bianco, linea principale, arriva A5. Come mai? Questa ormai abbiamo imparato a capirla, questa A5 o anche A6. Questa A5 in particolar modo prende più spazio sul lato di donne, ma quello che fa vuole aprire la via di fuga per l'alfiere prima di iniziare anche lui la manovra per portare il cavallo sul lato di re. Come mai il cavallo sul lato di re? Perché vedete, le case avanzate di questo cavallo sono ben protette dai pedoni del bianco. E allora Rapport gioca a torre. In E1 arriva H6, il bianco inizia la manovra del cavallo, cavallo in B che va in D2, arrocco corto anche per il nero, H3 controlla la casa G4. E allora il nero l'alfiere... Ah, scusate, allora il nero prende ancora più spazio, A5, si continua la manovra del cavallo, cavallo in F1 e adesso l'alfiere si muove in D7. D4 arriva, perché il pedone è bello protetto. Allora alfiere in B6 e, ecco, vedete, secondo me già questa D4 che è arrivata andando ad impattare l'alfiere, il nero poteva in qualche modo prevenirla. Allora cavallo in G3, torre in E8 su colonna centrale, la continuazione più giocata in questa posizione è riportare indietro l'alfiere in F1, arriva invece la novità di Rapport che rende la partita originale. Torre in E2, cosa serve? Una mossa, secondo me, molto flessibile, perché che cosa fa? Mantiene la caratteristica di rimanere sulla colonna centrale, protegge la casa F2, ma si potrà muovere se servirà anche sulla seconda traversa. Allora, donna in B8, attenzione a questa idea, perché viene giocata spesso in varianti simili del gioco piano dal nero. L'idea è portare questa donna in A7 e fare una pressione terribile sul centro, quindi vedete come mai anche Rapport ha portato questa torre in E2. E allora lo protegge il centro Rapport con Alfiere in E3 e per D4 deve ricatturare di Alfiere, cavallo per Alfiere, il pedone ricattura, fermiamoci un attimo. Il nero ha la coppia degli Alfiere, il bianco no, il bianco però controlla il centro con due pedoni contro uno. Arriva Alfiere in C6, nuovo attacco sul pedone, la forte spinta E5. E come mai forte? Forte perché vedete che la donna del nero si trova totalmente fuori gioco? E allora la situazione si complica e si complica con la donna che non può dare per adesso il suo apporto. Ora cosa può... e come mai si complica? Cosa può fare il nero? Guardate un po'. Ci sono due idee che vengono subito in mente oltre a quella di spostare il cavallo. Se D per E5 che succede? D per E5 il cavallo non può andare in D5, dovrà andare in H7. Donna in D3, guardate, Alfiere per pedone con scacco, si riprende il pezzo, è chiaro che il bianco ha l'iniziativa. La seconda idea qual è? Oltre a quella che ha giocato poi Gukesh in partita. Alfiere per cavallo non funziona un granché, è vero che si sciupa un po' la struttura pedonale, ma il re del bianco è ben protetto. D per E5, D per E5, adesso, pensate, per rimanere in partita, e queste ricordiamoci sono partite rapide, a 15 minuti, più 10 secondi di incremento per mossa, certo per loro è gran tempo, l'idea migliore qual è? Non quella di tornare col cavallo in H7, ma di giocare l'interessantissima C6. Come mai? Perché vedete, se adesso questo cattura, la donna cattura con scacco perché il pedone è inchiodato. E allora cosa deve fare il bianco in questa posizione? Giocare F4. Cavallo sotto attacco non vuole andare giustamente in H7, ci vuole un'intermedia torre in D8 che attacca la donna, donna in C2 e adesso con la protezione di torre e pedone il cavallo può portarsi in D5, ma arriva donna in F5, il bianco rimane con una buona iniziativa, guardate cosa può succedere, intanto il re che si sposta, la torre che arriva, il cavallo che poi il doppio non c'è perché si può naturalmente andare a giocare poi dopo lo scacco, insomma, posizione in cui si nota che il bianco mantiene una buona iniziativa. Cos'è successo in partita? È successo che Gukesh ha giocato cavallo in D5. E allora torre in E4 è forte, vedete perché la torre ha mantenuto la colonna, non ci sono buone scoperte perché male che vada si perde due pezzi per la torre, cioè male che vada per il bianco, ha preso due pezzi per la torre e quindi sta in vantaggio. E allora guardate Gukesh cosa è costretto a fare? Costretto a ricentralizzare la donna, donna in D8, torre in G4, già su una casa offensiva, inchioda il pedone sul re, e allora Gukesh con rena a caotto lo schioda, ma arriva il cavallo, secondo attacco sul pedone, che succede se si gioca torre in G8, non giocata giustamente dal nero, donna in D2, cavallo per pedone con minaccia di matto per il computer, è più 5. E allora la situazione si è veramente incasinata, Alfieri in D7 vuole, vorrebbe inchiodare il cavallo sulla torre, ma funziona questa inchiodatura? Non tanto, perché il cavallo catturando in G7 minaccia anche lui la torre, e allora qui che succede se Alfieri per torre, cavallo per torre, alfiere per pedone, per cavallo attacca la donna, la donna ricattura, questo il pezzo se lo ripiglia, e guardate quante minacce, per il computer è più 4, come se avesse un pezzo e un pedone di vantaggio. Brutta posizione per il nero, e allora giustamente Gukes gioca torre in G8, donna in D2 minaccia la cattura con matto, dopo torre per cavallo, e ora però qui non si può giocare la donna perché la torre si interpone, e allora torre per torre, il re ricattura, Alfieri per cavallo, si riprende il pezzo con tempo, non solo il bianco è rimasto con un pedone di vantaggio, ha il re più sicuro del re nero, e allora Gukes per chiudere questa diagonale gioca a C6, siamo arrivati al nostro quizone. Calcolate bene? Cosa giochereste? Di familiare? Con i pezzi bianchi? Mettete pure in pausa se volete, è da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, Rapport non ci pensa due volte, sacrifica l'alfiere sul cavallo. Qual è l'idea? L'idea è che se il nero non cattura, non accetta l'alfiere, sta per arrivare la fastidiosissima E6. E che succede se il nero cattura? Non l'ha giocata Gukes, come mai? Perché dopo re per alfiere, donna che cattura in H6, e ora l'idea è quella di cambiare le donne, perché il difensore, le idee migliori a sua disposizione sono quelle di attaccare le donne o da H8 o da F8, ma cambia poco, perché arriva anche dopo donna in F8, sarebbe arrivato E6 con scacco, che sembra un sacrificio di pedone, ma quando l'alfiere ricattura ed è costretto a ricatturare, cavallo in G5 con scacco, si riprende il pezzo che aveva sacrificato, ma sono partiti due pedoni, intanto scoprendo totalmente il re, re in G8, mossa migliore, la donna ricattura in E6 con scacco, ci sarà anche il matto forzato, dopo re in G7, donna in F7 con scacco, re in H6, arriva anche la torre, 6, re cattura, F4 con scacco, re in H4, donna in H7, donna in G5, scacco matto, vi lascio anche un'altra linea di matto, e allora, questo sacrificio, Gucke, non lo accetta, rimigliora la posizione della donna, donna in E7, arriva E6, alfiere per pedone, alfiere per alfiere, la donna ricattura, torre in E1, è sicuramente buono, arriva donna in B4, che attacca l'alfiere, e dietro attacca il pedone, lo vorrebbe catturare con scacco, vincendo la torre, e allora, torre in A6, torre in E1, protetta due volte, attacca la donna, donna in F6, avevo pensato, questa posizione, a torre in E4, per portarla in G4 con scacco, e se H5, arriva H4, che fa da sponda al cavallo, ma naturalmente Rapport, trova la mossa perfetta, che è D5, come mai perfetta? Guardate che succede, se il nero, prova ad impedire, donna in G4 con scacco, il pedone fa d'appoggio alla torre, torre in E6, donna in F5, donna che cattura, scacco di torre, per il nero, è finita, e allora, dopo di 5, Gukes è costretto a accettare il pedone, arriva donna in G4 con scacco, naturalmente, non si può interferire di donna, perché basta dare lo scacco al re, quando il re si sposta, si vince la donna per la torre, e allora, re è costretto a scappare in F8, donna in C8 con scacco, l'alfiere si interpone, ma è un pezzo sospeso, sotto attacco, difeso solo dalla donna, se si attacca la donna, il nero è perduto, torre in E6, Gukes abbandona, perché l'alfiere cade sicuramente, e cade con scacco, e mentre vediamo la classifica, allora vi chiedo, che ve ne pare di questo attacco, mi pare di una logica cristallina, e spero proprio che vi sia piaciuto, come vedete, la classifica pare ormai definita, e quindi le squadre di Karzen e di Anand si incontreranno in finale, e vedremo sicuramente un doppio match incredibile, e allora se non siete ancora iscritti al canale, vi chiedo gentilmente di farlo, sia per aiutarmi a farlo crescere, ma suonate anche la campanella, per guardare insieme tutte le migliori partite, io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video, a presto! Grazie! 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 Grazie!